Al quarto posto, a serata d'onore, ecco Pippo Baudo e Sabrina Impacciatore in un inedito fuori programma. Ma dimmi, dimmi cosa, ma scusami, ma tu, scusami, ma tu sei completamente pazzito, ma tu ti rendi conto di come l'hai presentata, che tu gli hai detto magica, perversa, sexy, tu gli hai detto quattro volte sexy, ma allora tutte le cose che tu gli hai detto in queste ultime settimane, allora di cosa stiamo parlando, io non ti devo prendere sul serio, ma tu non mi rispetti, tu non mi rispetti, sempre tu ti rendi conto che io mi sto... Ma quale fuori programma stanno recitando, guardate Pippo com'è impacciato, anzi impacciatore! Senti, manca la pubblicità! Ma che non possono andare a lucidare in questo momento! Io non le faccio più! Ma che hai risposto di me! Io ti ho visto come la guardate! Che mi puoi trattare così! Io non sono un'attrice! Come in ogni performance? di Pippo che si rispetti, non poteva mancare il bacio finale. Ma è tutta una finzione, sarà sicuramente una trovata di Pippo perché si sa, quello che ha in testa Baudo è tutto finto.